Fateci parlare, siamo dei candidati, siamo dei candidati sindaco come quelli sul palco, non siamo violenti, non siamo derogisti, siamo fascisti, un evento attuale hanno provato a invitare un minuto fa, prima questa mattina non li hanno invitati, la cassa di confronto tra tanti e altri si stanno mettendo le maie addosso, questo signore si sta mettendo le maie addosso, il confronto tra candidati inizia con una discriminazione in questa città, inizia con una discriminazione, questa piazza non accetta discriminazioni, ma l'ese libera non accetta di farsi discriminare, censurare, quattro, sette candidati, quattro ambitati, ahimè, vergogna!